Ok, rifare un attimo Adesso passiamo al prossimo pezzo del secondo Don't Fear Evil No, 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 no No, 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 no Don't Fear Evil Anymore I'm still and never before Don't Fear Evil Anymore I'm still and never before Dreams, no dreams No, 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 no No, 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 no No, 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 no è solo un semplice ma non è riavans ma che vuoi già non sei oisì un ritorno non è già che farà merito rice ma non è riuscito che mi accro ma non è il suo nico non è ritorno No Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.